Se credete che il braccio in anatomia umana sia il segmento dell'arto superiore che va dalla spalla alla piegatura del gomito, o che nel linguaggio corrente il termine indica comunemente ciascuno dei due arti superiori dalla spalla alla mano, ad esempio avere, tenere, portare un bambino in braccio, reggerlo sul braccio premendolo contro il petto, avere, tenere sotto il braccio un libro, una borsa, o che il braccio serva per il lavoro, ad esempio per arrivare a fare tutto bisognerebbe avere 100 braccia, avere le braccia rotte dalla fatica, campare, vivere con le proprie braccia, ebbene vi sbagliate. 6 settembre 2022, Asis già il consulente per il coronavirus di Biden, Dio ci ha dato due braccia, uno per il vaccino antinfluenzale, uno per il vaccino Covid. Se non spegnete immediatamente i device e vi staccate dal sistema, non sarete mai più in grado di tenere acceso il cervello e ragionare per riacquistare la vostra libertà.